NEP ha lanciato una nuova linea, una linea che parla di sport, Sport 11. 11 prodotti studiati per venire incontro alle esigenze di ogni sportivo, ma non come macro categoria. Ogni sportivo nella sua specialità, ogni singolo sport. Sport 11, 11 prodotti studiati per lo sport, SNAP, Beauty Advisor TV. Sport 11, 11 prodotti studiati per venire incontro alle esigenze di ogni sportivo, ma non come macroeco, ma non come macroeco, ma non come macroeco, ma non come macroeco. Sport 11, 11 prodotti studiati per venire incontro alle esigenze di ogni sportivo, ma non come macroeco, ma non come macroeco, ma non come macroeco, ma non come macroeco, ma non come macroeco.